Buonasera, nel palazzo alle mie spalle si sta svolgendo lo European Cultural Forum che è l'appuntamento chiave della Commissione Europea per comunicare con i suoi stakeholder, con gli operatori culturali, gli artisti e le organizzazioni europee attive nel campo culturale. I temi principali sono quelli dell'innovazione, parleremo magari dei contenuti in un altro video. Adesso vi diamo soltanto la notizia che fra un paio di settimane dovrebbe uscire il nuovo programma europeo che andrà da 2014 per i prossimi successivi sette anni, che si chiamerà Creative Europe. Abbiamo già annunciato in un altro video che metterà insieme il programma media, quindi l'audiovisivo con il programma cultura. In realtà sarà suddiviso in tre sottoprogrammi, quello appunto audiovisivo, il programma culturale creativo e alcune questioni legate più all'innovazione, per cui verranno stimolati la creazione di nuovi strumenti per la creazione di nuove policy, la riunione di dati e la sperimentazione. Queste sono solo informazioni preliminari che ci hanno dato perché il processo è ancora in posto. Comunque, come sapete, il dialogo strutturato con gli operatori è finito, non si fa, adesso sta per uscire questo nuovo programma. Verrà a sua volta, dovrà essere a sua volta discusso anche dal Parlamento europeo, per cui c'è in atto anche una campagna che si chiama Real More, affinché i parlamentari europei sostengano questo nuovo programma, anche perché questo nuovo programma ha l'ardire di proporre il 40% di finanziamento alla cultura in più, quindi una persona considerevole che può migliorare la cultura del nostro continente, dell'Europa Unita. Gli aspetti fondamentali sono che tendenzialmente il programma cultura si allinerà alla strategia Europa 2020 e così avverrà anche per i cosiddetti fondi strutturali, che non faranno parte del programma cultura ma sono un'importante fonte di finanziamento alla cultura, per cui non ci sarà più la politica di coesione nei fondi strutturali, ma ci saranno le tre direttive della strategia Europa 2020, quindi la creazione di uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile. Un altro aspetto fondamentale è quello che si cercherà di sostenere e di stimolare la condivisione di conoscenze, quindi la creazione di nuove clustering, quindi di messa in rete di progetti e di progettualità. Le persone che lavorano su stesse tematiche avranno quindi la possibilità, e gli sarà anche richiesto, di metterle in rete e di condividere così la propria conoscenza. Questo è tutto per oggi, vi aggiorneremo al futuro con altri video. Ciao! Ciao!